buongiorno da casa tutto netto oggi siamo nel nostro piccolo orto per portare a giorno scavare le patate il periodo giusto per scavarle quando le piante sono completamente secche come vedete in questo caso le si estirpa e poi si portano a giorno con un rastrello o un piccone cercando di evitare di romperle o tagliarle una volta che le abbiamo stratte portate a giorno le raccogliamo le mettiamo ad asciugare per qualche oretta quando saranno tutte pronte e portate a giorno le metteremo in una cassetta e le conserveremo per l'inverno in un luogo fresco buio e asciutto procediamo così fino a quando vedete le stacchiamo le raccogliamo qualche piantina produrrà patate piccole qualche altra invece è più grande da casa tutto netto alla prossima